Sarà necessario stralciare alcune parti dell'iniziale progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi delle aree di raffineria, una decisione che si è concretizzata nel corso della riunione ministeriale di metà dicembre che rientra nella conferenza di servizi avviata sul progetto. Durante gli accertamenti tecnici l'attenzione di Ispra si è concentrata su un'area ricadente nella zona di Bosco Bulala che in base ai dati forniti da Eni presenta una contaminazione da mercurio. I tecnici di raffineria già avevano indicato un'indagine integrativa con l'obiettivo di preservare per quanto possibile lo stato dell'habitat di Bosco Bulala e Valle Priolo evitando interventi impattanti, così si legge negli atti. Su Bosco Bulala però gravano diversi vincoli e pereni si tratterebbe di una presenza di mercurio probabilmente da ricaduta e localizzata in un unico poligono individuato per lo scavo e le attività connesse alla messa in sicurezza. Un altro poligono potenzialmente contaminato invece in un'area a nord dello stabilimento. Proprio le indagini integrative hanno convinto tutte le parti della conferenza di servizi a concludere per lo stralcio delle aree che necessitano di approfondimenti. L'intero progetto comunque dovrà essere aggiornato e si dovrà passare dalle autorizzazioni anzitutto del Comune per l'incidenza ambientale della soprintendenza per quella paesaggistica. I tecnici di raffineria dovranno indicare le modalità di collaudo e certificazione di avvenuta bonifica. Il piano presentato da Eni fin dall'inizio ha previsto la messa in sicurezza per le aree ancora produttive e la bonifica per quelle non più in produzione. Durante il confronto condotto ad inizio novembre si era apposta la questione di accertare se ci fosse già la copertura autorizzativa per gli impianti previsti dal progetto di bonifica. Nel Comune nella soprintendenza hanno partecipato agli ultimi tavoli convocati dal ministero nonostante siano enti che hanno competenza a decidere sulle autorizzazioni.